Rompe le costole alla madre per ottenere i soldi, per comprare la droga. Ancora un dramma familiare che si è consumato ad Arezzo e si è concluso con l'arresto di un 34enne, vittima delle continue vessazioni, una 67enne pensionata rimasta vedova. La donna infatti veniva malmenata, minacciata e rinchiusa in casa dal figlio, che pretendeva da lei denaro avendo problemi di tossicodipendenza. Ma al culmine dell'ennesima aggressione, la donna ha chiamato il 112. Il 34enne infatti l'aveva stretta il collo, poi scaraventata a terra, provocandole un drama cranico e la frattura di alcune costole. L'uomo poi le aveva pure sottratto il bancomat ed era riuscito a prelevare denaro. Il giovane infine aveva tentato di rientrare in casa, ma la donna terrorizzata si era barricata dentro. Il 34enne era comunque riuscito ad arrampicarsi e introdursi all'interno attraverso una finestra. La 67enne poi era fortunatamente riuscita a scappare, aveva chiamato i carabinieri e denunciato quanto accaduto. Ieri i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Arezzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della procura, nei confronti del 34enne che adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna invece è stata accompagnata in una struttura protetta.